Si tuffa ora, per i gabbiani dell'Atlantic Eastern, l'attuale canzione sfidante Doug Anderson. Sai una cosa che non si vede quasi mai? Uno che cerca di innervosire un tuffatore. Mica male, ragazzo. Grazie, signore. Il pubblico è pregato di non fare rumore durante l'esecuzione dei tuffi. Ed ora, il prossimo gabbiano dell'Atlantic Eastern, Bill Seinkard. Si concludono così i tuffi dai dieci metri per l'Atlantic Eastern. Seguono ora gli urlatori della Grand Lake. Desideriamo ricordarvi che i dieci per tutte le manifestazioni sportive della Grand Lake possono essere acquistati presso il servizio attivo studentesco. Dì un po', ti interessa Valerie Desmond? Perché sta con me. Cominci a camminare da solo, Melon? Eh, se io fossi in te non mi sbraccerei tanto a vantarmi di qua e di là. Perché senti qua, inserviente, qualunque cosa tu credi, sarai sempre un cafone, antipatico, stronzetto, arricchito. E finirai esattamente come tuo padre. Beh, io lo spero. Perché mio padre io l'amiro molto. Il primo a tuffarsi per l'Università di Grand Lake è Charles Osborne, ex campione nazionale delle medie superiori. Anche a lei, come, 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 come! Non c'è ancora non c'è ancora di��ca. Hai, inizio, hand. Oddio, размерualmente. Si è già tuffato Jason? Non ancora. Ti hanno promosso? Non so, me lo faranno sapere. Per l'università Grand Lakes assisteremo al tuffo di Jason Mellon. Così si fa, Jason, ce l'hai fatta! Bravo, bravo! È incredibile. Potremmo addirittura vincere. Con il tuffo di Mellon, gli urlatori hanno guadagnato terreno. Che ti succede? Tocca a te ora, Chas. Dio mio, mi ha preso un crampo fortissimo. È tutta la settimana che mi prendono dolori così forti. Probabilmente sono mestruali. Affanculo, Mellon! Allora, Mr. Turbol, ha un altro tuffatore idoneo? Mellon! Chi? No, no, no. Mellon! Forza, aiutaci! Fai vedere chi sei! Dai, so. No, no, no. Infilati il costume! Da come mi sento potreste donare il mio corpo alla fantascienza. Forza, Mellon! Aiutaci! Coraggio, amico, alzati. Dai, fagli vedere chi sei. Il costume! Forza! Mettiti il costume! Ed ora, come concorrente sostituto dell'Università Grand Lakes, si tuffa Thornton Mellon! È sulla mia lista dei sostituti, ma... In questo momento, purtroppo, non ce l'ho sotto mano. Però, comunque, comunque, appena un istante gliela, gliela porto subito. Che tu fu eseguire? Il triplo lindy. Un terzo trampolino viene ora inserito per il tuffo di Mellon. Il triplo lindy. È difficile? No, è impossibile. Un terzo trampolino viene ora inserito per il tuffo di Mellon. Maifasi. Linde. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Thornton, sei stato grandioso, è stato incredibile. Non c'è niente che tu non possa fare. Oh, Diana. I risultati dei tuoi esami proprio qui. È il caso che io li guardi? Sei passato, tutti sei. E un dieci. Chi me l'ha dato il dieci? Io, amore. Oh, shit.